Un saluto a tutti i lettori di BadComics.it Oggi siamo qui per parlarvi di The Art of Eman and the Masters of the Universe un volume uscito in queste settimane per R-Volizioni in linea chiara che attraverso immagini e materiale inedito ripercorre la storia del brand dei dominatori dell'universo dalle prime action figure uscite nel 1982 fino alle più recenti pubblicazioni a fumetti arrivate anche in Italia sempre per R-Volizioni ma andiamo ora insieme a sfogliarlo più nel dettaglio Con un costo di 40 euro il volume si presenta uguale e identico alla versione statunitense uscita lo scorso anno per Dark Horse anche gli interni sono fedeli in quanto presentano tutti i materiali originali che andremo poi a vedere insieme più avanti Allora il volume ovviamente inizia la sua storia narrando le origini delle prime action figure Come potete vedere il volume abbonda di schizzi, bozzetti, addirittura lettere o comunque indicazioni scritte a mano dai primi creatori delle action figure dei dominatori dell'universo Mentre la parte testuale è abbastanza risicata ed è dedicata prevalentemente a didascalie di accompagnamento o a interviste alle varie figure di spicco che hanno creato i masses of the universe In questo caso per esempio la prima che ci capita di leggere è dedicata a tre esperti del mondo di E-Man Tra cui figura anche il nostro Emiliano Santa Lucia che ha revisionato il volume in questione Andando avanti come vedete altri bozzetti di colorazione Possiamo scenari, i vari veicoli Addirittura c'è una parte, è presente una parte dedicata ai personaggi progettati ma alla fine non realizzati Ecco, ad esempio in questa pagina vediamo quelli disegnati da Bruce Thiem Storico creatore della serie animata di Batman degli anni 90 Quindi abbiamo altri, ora andiamo più velocemente E passiamo alla parte dedicata ovviamente ai mini comics Che erano gli albetti a fumetti che venivano allegate all'action figure Con cui i ragazzi del tempo potevano ricreare le varie storie dei personaggi Abbiamo anche, ecco, qui per esempio abbiamo una parte dedicata a Shira Una delle poche parti dedicate alla sorella gemella del principe Adam Ed è una delle pecche del libro In quanto per chi cercasse qualcosa di completo, di totale sul mondo dei massi e degli universi Rimarrà un po' deluso Nonostante questo il materiale proposto è certamente all'altezza del costo del volume Qui abbiamo tutta la parte dedicata al cartoon filmmation di metà anni 80 Con schizzi di realizzazione e anche, per esempio, personaggi scartati O prime versioni dei vari personaggi Nonché una cosa molto simpatica Che, appunto, come dicevo, per farvi capire che il volume è riprodotto fedelmente l'audizione originale Dobbiamo trovare E' questa Che è il rodovetro di Eman e Skeletor Lo facciamo vedere più da vicino Che veniva, ovviamente, una riproduzione Quelli originali erano più grandi Venivano usati per muovere i personaggi sulle varie ambientazioni Come il lettore può fare, ovviamente, sul libro Andiamo a rimetterlo a posto Per poi, ovviamente, passare qua altri fotogrammi del cartone, vari scenari Per poi, passiamo a tutto quello che confluì The Mass of the Universe post cartone Quindi fumetti, giocattoli Soprattutto anche libri, riviste Ecco, a questo proposito manca totalmente la parte dedicata a tutto il materiale uscito in Italia E realizzato prevalentemente in Italia a metà degli anni 80 Su cui, invece, il nuovo fumetto The Mass of the Universe nella parte redazionale Si sono fermati a parlare di questa cosa Qui andiamo avanti Possiamo vedere, ecco, i poster dell'epoca Qui abbiamo i fumetti dei Mass of the Universe Il primo scontro di Superman e Honeyman Qui è la versione di tre numeri della DC Comics Per poi Marvel e Star Comics Che ne fece una miniserie molto più lunga Alcune tavole Passiamo, vedi, ai libri Invece E poi arriviamo, ovviamente, al film dell'87 Con Don Florger E anche qui abbiamo interviste agli attori Addirittura una pagina di sceneggiatura Locandine, poster E quant'altro Schizzi sui ambientazioni, i paesaggi Come pensavano di adattare il materiale di partenza A un nuovo media come il cinema Quindi abbiamo, vedi, uno scheletro molto diverso Da quello che poi apparirà nella versione finale del film Anche Beastman Qui, invece, abbiamo un capitolo Dedicato alle nuove avventure La serie degli anni 90 Che ebbe a scarso successo E che proiettava le avventure di E-Man In un futuro prossimo E quindi molto più tecnologico Della versione fantasy Degli anni 80 Anche qui, bozzetti Schizzi di preparazione Giocattoli mai realizzati Arriviamo al capitolo 8 Che è quello della rinascita Degli anni 2000 Con la nuova serie animata Molto più fedele a quella degli anni 80 Qui, schizzi di personaggi Come al solito Colorazione, ambienti E una parte anche dedicata ai vari fumetti Usciti, tratti da questa serie Questa è a opera di Frank Weekly E poi ovviamente La nuova collezione di Action Figure Uscita e continua a uscire In questi anni Qui abbiamo una panoramica Che non possiamo far vedere tutta Ma sulle nuove uscite Quindi, che dire Un volume sicuramente Da acquistare per i collezionisti E gli amanti dei Masters of the Universe Che ovviamente Come abbiamo detto Ha una carenza a livello testuale Ma non per questo Deve scoraggiare un acquisto Sicuramente importante Qui vedete per esempio Tutte le mappe Dei vari mondi di man Difficilmente riperibili Anche online Qui invece il nuovo fumetto Quindi un acquisto sicuramente Per i fan Obbligatorio Che può essere appunto Unito alle future pubblicazioni Che dovrebbero arrivare anche in Italia Sia della raccolta dei mini comics Pubblicata sempre da Dark Horse In origine Che di nuovi libri Dedicati ai cartoon Che sono in corso di lavorazione in America E che probabilmente usciranno Anche da noi in Italia